allora ragazzi quando eravamo a parigi dio alessi attaccano nel posto più crazy che puoi allora quando eravamo a parigi una sera c'è una sera siamo finiti sotto la torre di ferche non sapevamo che cazzo fare no e fino a lì va bene a una certa eravamo tutti lì quindi c'era peter io c'era davide c'erano gli altri fa la massi tutti gli altri in moto i fotografi le pitt eravamo tutti in moto no 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 eravamo lì a piedi e c'erano sotto la torre fai c'erano tipo i baracchino che fanno le crepe quelle robe la voglia di dolce è un botto mangiato il kinder vero insomma eravamo lì no c'era chi cazzo si è preso la crepe chi è che si è preso la cosa che c'era lì c'erano le patatine fritte il cazzo di robo che farà ti piacerebbe facendo tenete bene le fate con le risposte anni lì che vediamo tutti i dolci ste stronzate qua non hai fatto che fa la prende ste cazzo di patatine che si vede che anni da tre giorni da fare no aria buongiorno un casino a farle si vede che erano quelle che c'erano superare sotto il giorno a chi sa che la vecchia rosso raccogliendo grazie a zico il santo e grazie a viva e spero che aveva mangiato un finito l'aria a chiacchierare c'erano ancora lì che aspettava in fila e niente allora riesce a prendere ste cazzo di patatine inizia mangiare saporato ste patatine statano di piedi come no ha detto che facevano cagare la storia dei ratti facevano cagare no aspetta c'era la torre file qua qua un baracchino e qua un altro baracchino a fianco a questo baracchino qua però c'era la strada in mezzo alla torre freddice un trattore di noi e quindi c'era un murettina con un parchetto in cana certa sotto sto baracchino vediamo dei ratti si gratti fra ma ratti grossi ma via c'era il classico non facciamo allora allora tu il pazio sì allora fa la terra dentro nei cappelli era dentro nei cappelli che cucinano cosa ha fatto ragazzi che ha fatto allora fa una certa al plutonio prende gli elancio i ratti ma che non c'è un paura no e vanno avanti poi torna vanno avanti torna e c'erano i ratti e se c'erano noi c'era un paura ma c'era grosso come una pantegana e ve lo giuro ma era enorme allora da lì a nasce a fare da un momento all'altro ma fa l'ha iniziata a fare il pirancio le patatine ovunque inizia a esserci 10 15 davvero ma non aveva fatto il video presente che erano sotto il baracchino e sicuro entravano anche dentro dove fa l'aveva preso le patatine renditi conto una certa vedi che c'erano tutti li era insieme la famiglia si raga i topi davanti a noi che saltavano si prendeva quando giuro saltavano si è fatta di nato minchia ragazzo ma te lo giuro ma non correvano così correva come si guardava si saltavano si voleva portare una milano c'è l'italia poi c'era un po del parchetto quelli del baracchino la cri di ratatouille è presente il cazzo animato l'ho detto prima intercista alla porta della questura insomma la storia all'era questa che è quella meno bannata in realtà sei che ratatouille l'ho detto in un'autobus